Ciao da Viviana! Ora avrai capito perfettamente che il nostro è un club di amici che tramite passaparola diffonde come nella vita si può stare bene. Oggi ti spiego i tre punti fondamentali per vederti consegnare dal nostro corriere convenzionato la tua personalizzata PM0. Se sei interessato o interessata a procedere all'ordine d'acquisto, ecco i tre punti da seguire. Il primo passo, compila il form. All'interno di questa e-mail trovi il tasto Clicca qui, prenota la tua prova personalizzata. All'interno del form troverai tutte le richieste necessarie per creare la tua personale PM0. Richieste come peso, altezza, lunghezza delle gambe, lunghezza delle braccia, eccetera. Serviranno per fare allestire una PM0 demo test che ti manderemo in prova, progettata perfettamente alle tue struttura fisica. Ad esempio, se tu fossi alto 2,10 m e pesi 100 kg, riceverai una PM0 diversa di quella di un'altra signora, alta 1,50 m che pesa 45 kg. Nonostante la misura del telaio unica e grazie alle regolazioni, si può fare stare comodamente in sella entrambi. L'importante sono i parametri di riferimento da rispettare. Ad esempio, il settaggio di spinta del motore sarebbe differente. È un conto trasportare 45 kg, è un conto trasportare 100 kg. Per chi pesa 100 kg, la coppia motore che deve intervenire è più decisa e potente. In questa fase di studio dell'abbinamento corpo-macchina, noi ti mandiamo la PM0 demo test con un settaggio più vicino a te. Il completamento della scheda tecnica servirà ai nostri salvi elettromeccanici per rilevare le misure così da ottenere la tua PM0 personale. Sulla WLS e-bike che riceverai sarà installato un apparecchietto che registrerà la tua prova sul tuo percorso quotidiano. Salite, discese, pianura, velocità, spinta sui pedali, ecc. Al ritorno in sede della PM0 scaricheremo tutti i dati tecnici registrati nel dispositivo e verificheremo quale settaggio dare, verificando tutti i parametri per la massima ottimizzazione sul tuo percorso della tua PM0 WLS e-bike, che ti verrà consegnata ad un mese esatto dalla restituzione della PM0 demo bike. Ci siamo quasi! Allora ti aspetto! www.pm0.it www.pm0.it Grazie.